Un'assemblea pubblica per raccontare ai cittadini il progetto di riqualificazione della frasca e quello andato in scena all'Aula Pucci. L'amministrazione chiede garanzie sulle casette di legno. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver tentato di aggredire l'ex compagna con una vera e propria imboscata. All'uomo è fatto di vieto di fare ritorno nel comune di Civitavecchia. Una situazione che ha dell'inverosimile ma che è anche di difficile soluzione è quella che si registra in un condominio di piazzale Fior di Loto a San Gordiano dove c'è un'emergenza rifiuti. Al Via Domani alla Biblioteca Comunale il giovedì dell'archeologia organizzati dal comune e dalla direttrice del museo Anniboletti. Si parte con un convegno sugli etruschi. Dopo la vittoria contro l'Augos Magnesi pensa già alla difesa del mondiale negli Stati Uniti in programma a febbraio. L'obiettivo è unificare le cinture, dichiara Lupo Solitario. E ancora buonasera, un'assemblea pubblica per raccontare ai cittadini il progetto di riqualificazione della Frasca, ovvero la realizzazione di un parco archeologico interamente finanziati dall'autorità portuale. È quella che è andata in scena ieri pomeriggio all'Aula Pucci, alla quale hanno preso parte anche diversi cittadini, soprattutto quelli direttamente interessati dalle modifiche che la trasformazione porterà necessariamente con sé, in particolare l'abbattimento dei ricoveri per la pesca che si trova nel riva al mare, le famose palafitte che saranno comunque ricostruite più internamente. L'assemblea è stata voluta dal capogruppo di Forza Italia, Massimo Boschini, e vi hanno preso parte il sindaco Ernesto Tedesco e l'assessore all'urbanistica Leonardo Roscioni. A spiegare il progetto di valorizzazione che passa necessariamente dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale di una variante urbanistica per l'area, è stata l'architetto Enza Evangelista e l'ingegner Maurizio Barini dell'autorità portuale. Vediamo le interviste. Convegno che riguarda il progetto della Frasca, perché è stato importante appunto presentarlo che è la lavucci? È importante perché è un'occasione, non tanto per noi che ha detti i lavori, nel quale abbiamo già avuto modo di conoscere parzialmente il progetto di riqualificazione della Frasca, ma di metterlo a conoscenza della nostra città, della nostra comunità. Infatti abbiamo dato un titolo, quale destinazione e quale finalità di fruizione della Frasca all'ordine di questo progetto presentato dall'autorità portuale, nel quale il Comune dovrà dare poi la destinazione d'uso per la realizzazione dell'opera. C'è stato uno stop per certi versi improvviso all'ultimo Consiglio Comunale, si punta al prossimo? Si punta al prossimo, però cerchiamo di fare dei passaggi importanti, la città deve conoscere, gli addetti chiaramente manufatti che insistono in quello spazio devono avere le giuste garanzie e le garanzie devono essere di tutti, in particolar modo, come ripeto, della città per la fruizione diciamo della Frasca che è un punto, come dire, tradizionale della nostra città stessa. L'amministrazione comunale teneva che questo progetto, che è dell'autorità portuale, è stato presentato e approvato dai vari organismi come il Ministero dell'Ambiente, venisse reso pubblico a tutta la città. Noi come Comune c'è stata chiesta la variante urbanistica. Al Comune spetta garantire tutti i cittadini sul fatto che la fruizione della Frasca e tutte le attività che vengono svolte alla Frasca, al Balneazione e al Diporto, vengano mantenute assolutamente anche dopo l'esecuzione del progetto. E anche possibilmente che oltre a questa garanzia che deve essere assolutamente granitica e ineccepibile venga anche data risposta ai concessionari dei ricoveri per attrezzatura da pesca i quali nel progetto è previsto che vengano recuperate più all'interno su una zona non interessata dalle rivenienze archeologiche ma che deve essere spiegato bene e ci devono essere le giuste garanzie per tutti. Operazione trasparenza dell'amministrazione comunale che riteniamo vada nell'interesse incontro alla città. Sappiamo quanto sia importante per la città la Frasca e quindi credo che sia un'occasione importante ci sono dei cittadini che hanno la possibilità oggi di conoscere il progetto e quindi di poter verificare quello che è una trasformazione di un luogo come dicevamo che è essenziale per la nostra città al tempo stesso gli stessi cittadini che poi ne usufruiscono possono verificare quello che si ipotizza di fare e ripeto la Frasca la conosciamo tutti, Civitavecchia la ama e quindi è giusto che i cittadini abbiano l'iscontro di quella che è l'idea progettuale. La cronaca ha messo in atto una vera e propria imboscata ai danni della ex compagna per questi carabinieri hanno arrestato un cinquantenne originario della provincia di Cosenza che già separato dalla propria ex convivente 55enne di Civitavecchia aveva convinto la donna che già in passato aveva subito da lui varie violenze che per questo lo aveva puntualmente denunciato a consentirgli di fare ritorno presso quella che era stata la loro abitazione per riprendere alcuni effetti personali. Una volta giunto sul posto però ecco immediatamente scattare dapprima il litigio quindi l'aggressione fisica. La vittima chiusasi in bagno a casa è riuscita però a comporre il 112 a chiedere l'intervento di una pattuglia dell'arma. Allora arriva i carabinieri hanno trovato l'uomo ancora nell'abitazione posta a soquadro mentre inveiva nei confronti della ex. Quando poi la donna è uscita dal bagno l'uomo ha cercato di nuovo di aggredirla scavalcando un tratto della recinzione esterna dell'abitazione e costringendo i militari a contenerlo fisicamente. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto fino all'udienza di convalida durante la quale il giudice gli ha imposto il divieto di fare ritorno nel comune di Civitavecchia. Pomeriggio movimentato per i vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle 15 circa i pompieri sono stati allertati per incendio in un appartamento in Vialeopoli posto al secondo piano all'altezza del civico 44. I residenti allarmati per il tanto fumo proveniente dalla cucina hanno chiesto soccorso. Gli uomini della caserma Bonifazi sono immediatamente arrivati sul posto con la 17A, l'autobutte e l'autoscala per riuscire a fronteggiare anche lo scenario più difficile. Entrati nell'appartamento hanno tempestivamente messo in sicurezza e ha irato la zona interessata. Tanta paura per i residenti ma fortunatamente non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e di carabinieri di Civitavecchia. E non è un giorno felice per Civitavecchia sotto il profilo Covid. Nel consueto report dell'ASL RM4 e della Regione Lazio, la nostra città torna ad andare in doppia cifra. Sono 14 nuovi contagiati, meno della metà invece i guariti, che nelle ultime 24 ore sono stati 6. Il Centro funzionale regionale rende noto che il Dipartimento della Promozione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse, con indicazione che dalle prime ore di domani e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio temporale, specie sulle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali raffiche di vento. Cambiamo argomento. Una situazione che va avanti ormai da diversi mesi ed è diventata insostenibile quella che stanno vivendo i residenti di Piazzale Fior di Lotas a Gordiano alle prese con il problema dei carrellati della raccolta differenziata che non vengono svuotati. Sembra infatti che solo alcuni condomini fanno in modo adeguato la raccolta differenziata e quindi i secchioni presenti non vengono puliti dagli operatori di CSP. La nostra intervista, vediamo. Siamo a Piazzale Fior di Loto a San Gordiano, insomma la situazione la vediamo, cassonetti pieni, ci diceva da tantissimo tempo che non vengono svuotati. Ci spiega un po' qual è la situazione? La situazione è questa qui, che noi da quando hanno messo questi secchi, perché prima noi avevamo messo laggiù, poi so come dei vigi ce l'hanno fatto tolto perché lì non ci potevano stare, non ho capito perché non ci potevano stare. Allora qui stanno bene, sotto il porticato dove c'erano i bambini, dove c'è stata gente, diciamo qualcuno che sta male, è tutta la puzza. Sono mesi, dal mese di luglio-agosto, che non si riesce a far togliere questa immondizia. Se questa è un'indecenza, a volte vengono, ma tolgono un secchione, ma tanto questo rimane sempre, perché se vedete giù in fondo i secchioni, questa è immondizia che non sappiamo più dove buttare. Non andavamo a buttare, ma buttavamo a mezzo alla strada. Avete provato a chiamare chi di dovere? Ho chiamato l'amministratore e fare l'orecchio da mercanti. Abbiamo chiesto anche al comune, ho telefonato anche al sindaco, ho chiamato anche al sindaco, io mi avevo dei messaggi, ho detto provvediamo, 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 ma tanto ecco qui, questo è il risultato, rimane sempre così. Allora noi che dobbiamo fare? No, dobbiamo buttare questa immondizia. Per colpa di qualcuno, purtroppo noi ne paghiamo le conseguenze, perché io l'ho differenziato come qualcun altro, come questo amico, facciamo la differenziata, andiamo a buttare le bottiglie, che si devono buttare nella campana, va bene? Però c'è qualcuno che tutte queste cose qui non le fa. Non è roba di un giorno, di un giorno, questa è una roba che di mesi, di mesi, di mesi, di mesi, oggi svuotano i cassonetti e dopo mezz'ora è un'altra volta pieno, poi lo buttano dall'altra parte, lo buttano dal palazzo, capito come funziona qui? Magari poi pure i scopini, giustamente loro dicono, io vedo una bottiglia di vetro nell'identità e non te la ritiro, vedono una plastica dentro la carta e non te la ritirino, poi qua c'è stato tutto e di più, vestite, stracce, cose. Quindi rimane tutto così? Quindi rimane tutto così a fine. Rimane sempre in questa maniera qua, non cambia niente, dal mese di agosto non è cambiato niente, anche perché giorni fa a me mi è arrivato 360 euro dell'immondizio da pagare. Perché non si spostano questi chiunque se mettono a quell'angolo laggiù in fondo, dove non dà fastidia a nessuno? Cioè perlomeno le persone che abbrano in questo palazzo qui non rispirino tutta quella puzza che c'è sta. Io questo volevo dire, si spostano quelle secchiose, mettono giù, almeno bella vista d'occhio, lo vedono tutte e ogni tanto magari vengono e le vengono a togliere. Noi facciamo appello che ci venga aiutato il prima possibile qui a risolvere questa situazione, perché sennò qua è diventata una cosa insostenibile. Una discarica. Una discarica a cielo aperto, lì sotto, qua davanti, cioè è diventata per davvero, non una discarica, peggio, animali, surci, topi, di tutto e di più ci sta. Accogliamo con favore la ricostituzione del Consorzio dell'Osservatorio Ambiente per volontà dei sei comuni del territorio con il Comune Civitavecchia, che rientra come capofila dopo l'uscita di tale ente nell'anno 2015. Lo afferma Pasquale Marino del Gruppo della Lega, che spiega che gli uffici saranno riportati a Civitavecchia, ma che bisognerebbe allargare le competenze del Consorzio tramite coinvolgimento di altri enti e di istituzioni presenti sul territorio che hanno specifica conoscenza per materia. In questo modo, conclude Marino, si avrebbe veramente un monitoraggio dell'inquinamento a 360 gradi. E giriamo ancora una volta a pagina, si svolgerà venerdì con inizio fissato per le 16 il Congresso dell'Ampi per l'elezione del Presidente della sezione Barbara Nelli Maroncelli di Civitavecchia. L'elezione arriva dopo lo stop forzato causa Covid. Di ciò si è parlato nel corso di una conferenza stampa che ha visto anche la presenza del Presidente uscente Giorgio Gargiullo. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla sezione locale, vicinissima a raggiungere i 200 soci e ad avere una sede che sarà messa a disposizione dall'Ater. Vediamo l'intervista. Giorgio Gargiullo, venerdì ci sarà il congresso dell'Ampi. Come si svolgerà e come ci arriva l'Ampi a questo congresso? Io ritengo che ci arriviamo in crescita come organizzazione sia sul piano organizzativo ma anche sul piano politico. Noi siamo partiti due anni e mezzo fa fondando qui di nuovo questa associazione che era da qualche anno che non aveva più nessun riscontro con la realtà cittadina. Abbiamo fatto il congresso costitutivo. In due anni e mezzo credo che abbiamo fatto importanti progressi con iniziative che riteniamo importanti e che sono andate anche nel modo migliore ma con programma di ulteriori iniziative che qualificheranno ancora di più la nostra associazione nel tessuto cittadino. Quindi ci arriviamo su una posizione ben consolidata rispetto a due anni fa. Riteniamo che questo congresso possa essere il momento in cui daremo un ulteriore slancio alla nostra iniziativa politica che ha come finalità l'antifascismo e la Costituzione italiana. Come svolgerà la giornata, la compagnia portuale? Si svolgerà la compagnia portuale. Verrà nominato il presidente del congresso. Ci sarà una mia veloce relazione dove illustrerò quanto è stato fatto e gli obiettivi che ci dobbiamo porre. Dopodiché ci sarà il dibattito. Innanzitutto ci sarà il saluto degli invitati. Ci sarà il dibattito. Dopodiché ci saranno le conclusioni con la nomina del nuovo comitato direttivo, di tutti gli organismi previsti dallo statuto e con i delegati al congresso provinciale. Per evitare chiusure o altri tragici provvedimenti nei confronti del settore terziario e per mantenere la continuità lavorativa che eviti tragici periodi di lockdown e coprifuoco è bene alzare la guardia. Ci sono delle regole che vanno rispettate da tutti. Inizia così in una nota Tullio Nunzi dell'associazione Meno Poltrone Più Panchine che pone interrogativi sui problemi che ci sarebbero per il commercio in caso di quarta ondata da Covid. La convivenza passa anche da piccoli gesti di civiltà come controllare il Green Pass, riprende Nunzi. Si deve essere rigidi perché rischiamo di buttare all'aria i lavori e i sacrifici fatti fino ad oggi. Il settore del terziario che si sta riprendendo da una crisi devastante non può rischiare. Intervenire quando la curva dei contagi inizia a risalire può essere troppo tardi. Nuove limitazioni o chiusure sarebbero un colpo definitivo a bilanci già problematici. Giriamo pagina ancora una volta e al Via Domani giovedì dall'archeologia una serie di incontri culturali sull'antichità e sul territorio che si svolgeranno alla Biblioteca Comunale Alessandro Cialdi di Piazza Calamata e che sono stati organizzati dal Comune e dalla direttrice del Museo archeologico Lara Anniboletti. Ad aprire gli appuntamenti che inizieranno alle 17 e dureranno circa un'ora sarà Alessandro Mandolesi della Soprintendenza Speciale di Roma. Il titolo della prima iniziativa è Grandi tumuli etruschi, viaggio alla scoperta dei principi d'Etruria. Ascoltiamo l'intervista alla direttrice Anniboletti. I giovedì dell'archeologia. Allora di che cosa si tratta? Quali incontri sono prefigurate e fino a quando dureranno? Allora, innanzitutto volevo ringraziare la disponibilità del Comune di Civitavecchia perché questi incontri culturali, questi dialoghi come li abbiamo voluti chiamare sono organizzati dal Museo archeologico di Civitavecchia che è un istituto della direzione regionale Musei del Lazio e dal Comune di Civitavecchia tant'è che sono i giovedì dell'archeologia e si faranno presso la sala della Biblioteca Comunale la Sala Cialdi qui in Piazza Calamatta di fronte al museo. In connubio con questa cosa abbiamo pensato anche di dedicare una serie di incontri per innanzitutto aggiornare i dati. Ci sono in atto diversi scavi a Civitavecchia e nel territorio Civitavecchiese da parte di equip universitarie quindi questa costituisce anche un'occasione ad esempio per aggiornare i dati e le ricerche scientifiche rispetto a Cencelle, Acquetauri, Pirgi ma non soltanto dati che provengono da campagne di scavo ma anche nuove ricerche, nuove pubblicazioni quindi si tratta di tematiche che riguardano il territorio però non strettamente di localismi abbiamo voluto in parte ampliare anche l'offerta invitando una serie di ricercatori, di studiosi, accademici di rettori di museo che in qualche modo avessero, su tematiche che in qualche modo fossero connesse o per posizione geografica quindi per vicinanza geografica rispetto a Civitavecchia o per vicinanza culturale mi auguro che sia anche l'occasione per una conoscenza più approfondita proprio da parte del territorio stesso ad esempio io ho coinvolto le scuole alcune scuole mi hanno detto facciamo un progetto i ragazzi vengono alle conferenze come ciclo formativo e io mi auguro veramente che accada questa cosa quindi dottoressa, qual è il primo appuntamento? allora il primo appuntamento iniziamo giovedì 25 novembre alle ore 17 alla sala della biblioteca comunale Cialdi per proseguire la data fissa è il giovedì saranno diversi giovedì due o tre giovedì del mese abbiamo già pubblicizzato tutto il programma per cui ci sono delle brochure informative dei manifesti in cui si potranno naturalmente vedere tutte le date e quindi vi aspettiamo giovedì 25 domani presso il salone della comunità terapeutica dell'associazione Il Ponte centro di solidarietà di donne Gidio Smacchia in via Veneto si terrà una manifestazione celebrativa della giornata contro la violenza sulle donne organizzata dalle ospiti del programma Coccinelle madri con bambini al seguito che hanno deciso con la loro testimonianza di far conoscere la realtà della condizione femminile vista con gli occhi di ragazze che hanno subito una particolare forma di violenza legata al mondo della tossicodipendenza e in genere al disagio giovanile che colpisce in maniera ancora più pesante le giovani donne sin dall'adolescenza l'iniziativa che ha avuto il patrocinio del Comune Civitavecchia si svolgerà a partire dalle ore 15 con un green pass obbligatorio e terminerà con il dono di una panchina rossa da collocare nel parco della solidarietà nel quartiere di Campo dell'Oro dedicato proprio a donne Gidio Smacchia fondatore della nostra associazione affermano dal ponte un fiore rosso da portare fuori il teatro traiano a partire dalle 17 ricordo delle vittime di femminicidio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne è l'iniziativa delle ardite che spiegano come l'intensificarsi del fenomeno strutturale e sistemico che involga sempre più spesso i bambini e le bambine come nel caso di Vetralla nel Viterbese quando un uomo che aveva il divieto di avvicinamento alla sua ex e al figlio ha ucciso il bambino di 10 anni c'è un denominatore comune in queste vicende affermano le ardite ovvero la volontà deliberata delle donne di fuoriuscire da una condizione di violenza mettendo dunque fine alla relazione donne che avevano deciso di autodeterminarsi che si volevano vive, libere e felici e invece sono ancora morte e ammazzate Sara Buster Keaton è il protagonista della terza puntata di Frame la trasmissione TRC dedicata al cinema d'autore al Cineforum organizzato da Luca Vassalli verrà proiettato The General ovvero come vinsi la guerra una pellicola ambientata durante la guerra di secessione americana appuntamento questa sera alle 21 sul canale 111 o se preferite 111 di TRC e veniamo alla pagina sportiva che apriamo subito con il pugilato Michael Magnesi si sta godendo il successo sul Lagos ma sta anche pensando al suo futuro Lone Wolf ha già calendarizzato per febbraio il suo ritorno sul rig negli Stati Uniti questa volta per rimettere in paglio la cintura mondiale dei pesi super piuma Ibo intanto il boxer allenato da Mario Massai si sta facendo sempre più conoscere negli States e sono molti gli americani che hanno fatto i complimenti a Magnesi per l'ennesimo successo per KO ascoltiamolo in questa intervista Michael Magnesi abbiamo ancora negli occhi il bel incontro che hai fatto contro Lagos però si inizia a pensare anche al futuro cosa ci sarà nel futuro di Michael Magnesi? per il momento abbiamo la difesa del mondiale Ibo che è prevista per febbraio adesso ci sarà la data da definire l'avversario e tutto quanto però il prossimo step è fare una difesa lì del mio titolo e poi magari tentare l'assalto ad un'altra sigla quindi si va avanti dritto per dritto verso l'obiettivo che lo hai dichiarato ormai da mesi e che continui a dichiarare sì sì l'obiettivo è unificare più sigle possibili e cerchiamo di riuscirci è parecchio che è successo con Lagos diciamo all'inizio di questa intervista importante per farti conoscere in America e poi anche una volta l'hai ottenuto con il KO sì un match importantissimo per far conoscere il lupo solitario lì in America e far vedere che siamo diciamo un pugile concreto di sostanza è andato bene ma anche dopo una partenza diciamo un po' un po' in sordina diciamo così in sordina però poi siamo riusciti a rinquadrarci e concludere il match come doveva essere concluso e quando vai su di giri quando partono i colpi sono sempre di meno i pugili che ti tengono a testa sì una volta che ingrano le marce poi non ce n'è per nessuno e passiamo alla palla a nuoto dopo l'annuncio dei gironi arriva anche la data di partenza del prossimo campionato di Serie 2 per la Coser la stagione prendere il VL il 16 gennaio con la prima giornata nelle prossime settimane saranno dinamati anche i calendari del Girone Sud per quanto riguarda la formula le prime classificate dei due gironi accederanno direttamente alla finale playoff dove incroceranno le vincenti delle semifinali ad incrocio tra seconde e terze per quanto concerne i play out le ultime retrocederanno direttamente con finali ad incrociare tra penultime e terzultime con le due sconfitte in B previsto l'obbligo di schierare nella distinta delle 13 almeno tre atlete nate nel 2002 e anni seguenti veniamo all'occhi il sorteggio non certo benevolo ma molto affascinante per gli snipers techno alt in Coppa Italia l'urna del FIS SR ha accoppiato il nome della squadra di Martina Gavazzi al Milano Quanta formazione che ha stradominato il panorama italiano tra cui diversi scudetti e quest'anno il successo nella Supercoppa Italiana i meneghini sono in testa alla classifica di Serie A ed hanno vinto tutte le partite il match si disputerà il 4 dicembre in casa dei rinoceronti per Luca tranquilli e compagni una sfida da vivere in piena serenità con l'onore di poter sfidare alcuni dei più forti giocatori del panorama mondiale veniamo alla pallavolo Siria Tangini si aggiudica ai due derby con il suo Costa Volpino e continua la cavalcata trionfante nel girone B di Serie B1 la squadra dove gioca il centrale classe 97 cresciuta nel vivaio dell'ASP ha vinto entrambi i derby della provincia di Bergamo prima per 3 a 0 sul campo del Donco Leone e poi replicando nel atteso incontro anzi scontro al vertice con il Gorle secondo della classe sempre per 3 a 0 l'ex Olbia Martignacco ed Empoli si è messa in mostra totalizzando 9 punti nello scontro diretto per la vetta le volpine sono in testa alla classifica del proprio girone a punteggio pieno con 18 punti ed hanno lasciato per strada solo un set veniamo alla pesca successo per la manifestazione pesca sportiva canna da riva a pesca di un sorriso valido anche come Memorial Angelo Pepe oltre 95 partecipanti che avevano come unico scopo portare dei generi alimentari da donare alla Croce Rossa poi consegnate al presidente Roberto Petteruti dagli amici del mare unitamente al personale della guardia costiera del comandante Francesco Thomas bene questa è la nostra ultima notizia e si conclude questa edizione il TRC giornale prima di salutarvi come sempre vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook Youtube Instagram oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata anche con i nostri programmi a risentirci a presto grazie per l'attenzione